ragazzi possiamo dirlo lo diciamo partita spettacolare questa serie c non me la ricordavo così competitiva così di alto livello io direi menzione speciale per entrambe le squadre perché meritano entrambe una promozione serie v l'anno prossimo tutte e due possiamo dirlo mi sbilancio così mi tolgo dall'imparzialità ragazzi partita soporifera c'è poco da fare siamo arrivati alla fine per fortuna sbloccandola con questo triangolo su lukaku e l'abbiamo portata a casa ma difficile tanto possesso palla sterile poche occasioni nitide un poco ritmo se volete no quindi vabbè comunque ci sono anche delle cose positive analisi adesso andiamo su tutto quanto è però una cosa positiva c'è effettiva a parte gli scherzi oggi abbiamo subito zero gol zero gol l'inter ultimamente il problema dell'inter era era non tanto il fare gol o sì anche un po il gioco il punto è che facciamo svarioni difensivi cioè che il reparto non c'era era disgregato buchi dimenticanze errori rigori robe a caso no e oggi tutto sommato siamo stati bravetti invece non abbiamo sbagliato nulla chiaro il genoa non è il milan non che il milan comunque il genoa è il milan però già il borussia non è che fosse una squadra una pazzesca il borussia è la quarta fascia è l'ultima squadra di champions cioè voglio dire siamo superiori e poi c'era devrai però però a livello tattico ci siamo stati impeccabili e non è un caso visto che c'erano due difensori puri in difesa ranocchia e bastoni e poi c'era d'ambrosio adattato ma due difensori puri ce li devi sempre avere non puoi andare a presentarti con devrai e coloro ed ambrosio questo mi sembra di poterlo dire abbastanza chiaramente coloro ed ambrosio insieme in partite importanti non garantiscono un reparto ordinato serio efficace a livello difensivo perché non sono due difensori veri coloro lo è ancora meno di d'ambrosio tra l'altro quindi perdi proprio i movimenti le scalate giuste le marcature eccetera eccetera oggi invece siamo stati molto buoni su questo punto di vista e anche ranocchia che fino cioè una settimana fa dicevo caspita però ragazzi avendo così pochi difensori forse l'avrei messo in campo l'avrei messo in campo anche nel derby e poi l'avevo detto anche nella quella dopo della champions qualcuno mi diceva il miglior ranocchia sarà sempre peggio del peggior coloro mi è stato detto questo cuccatevi sta partita qua ranocchia è stato il più bravo in campo perfetto ranocchia oggi non ha sbagliato nulla e ha fatto una buonissima partita veramente impeccabile ranocchia oggi ed essere così impeccabili non giocando mai è cosa molto difficile molto difficile perché questo significa che ranocchia si allena ogni allenamento lo fa in maniera perfetta e incomiabile quindi onore al merito bravo ranocchia punto non ci sono virgola parentesi asterischi punto bravissimo bravissimo perché non è facile questo non vuol dire che deve togliere il posto dei brai però avere un ranocchia così che quando quando si va a trovare pronto gioca in questo modo qua è una buona risorsa è una cosa positiva perché vuol dire che puoi anche fare turn over anche sui giocatori che pensi siano insostituibili e poi rischiano di andare fuori forma no perché anche devrai ecco bene quindi questa è una cosa positiva detto questo partita di oggi allora bene la difesa utile anche nelle palle inattive portiamo finiamo discorso difesa così poi andiamo avanti utile anche nelle palle inattive avere due centrali veri cioè non solo come ruolo ma anche come corporatura da centrali veri cioè bastoni e ranocchia e scrignar ed evrai sono un metro 90 chi più chi meno tutti e tre e sono giocatori molto bravi nelle palle inattive con la testa e questa è un'altra cosa importante in serie a e che ci manca parliamo per difenderti meglio ok io mi ricordo ancora il gol che abbiamo subito contro il mi ricordo più sarà il benevento insomma non mi ricordo più adesso che abbiamo subito di testa vi ricordate con colorove d'ambrogio che non ci arrivano e lì aver avuto un ranocchia era una cosa diversa comunque a parte il difenderti meglio agisce anche meglio nelle palle inattive in attacco ranocchia ha propiziato il secondo gol dove hai chiuso la partita quel gol lì era di ranocchia più che di d'ambrogio poi d'ambrogio è grande perché lui va sempre sul secondo palo tempismo perfetto proprio una catena e quello è uno schema che ci riesce sempre però ranocchia ragazzi con il pallone lì l'ha preso in mezzo all'area tornando indietro dall'alto del suo metro 95 fosse stato un altro anche solo kolarov non lo poteva fare quel discorso lì quindi aver ceduto godin è anche un male per questo andiamo avanti brozovic e il centrocampo eccetera brozovic oggi l'ho visto leggermente meglio rispetto al solito non è ancora il brozovic con quello che volete ma l'ho visto un po meglio dal punto di vista tattico un po già gestito più palloni ha cercato di dare il pallone anche non da quello di fianco ma a quello dopo c'è i passaggi belli ritmati resoterra di 30 metri che fanno sono quelle cose che vanno bene da metodista che mi piacciono perché danno un senso una possibilità alle giocate poi di di proseguire chiaramente poi c'era il problema che nessuno si muoveva quindi erano sterili i nostri palloni nostro possesso però brozovic non ha fatto una brutta partita nel primo tempo ha avuto anche una discreta intensità nel recupero della palla del metterci la testa anche quando c'è lo scontro quindi non male non male secondo me quando gioca dietro brozovic rende meglio e oggi ho giocato dietro con vidal tra le linee in mezzo diciamo a fare il varella della situazione anche se oggi vidal è calato un pochino perché chiaramente ci sta giocando tutte quindi è venuto un po meno però insomma è quello il suo ruolo anche perché così ha potuto fare due tre incursioni in area io me ne ricordo sui cross di pericic anche lì parentesi che senso ha fare i cross se non hai gli incursori allora se fai i cross allora devi averli incursori quindi bene che tieni vidal in mezzo al campo e non davanti alla difesa davanti alla difesa deve starci brozovic devi recuperarlo mentalmente ed è quello che sa fare quello che per cui ci è utile brozovic davanti lì lì è l'unico giocatore che può farlo da noi attualmente perché abbiamo ucciduto tutti gli altri che potevano farlo quindi come borca quindi voglio dire teniamoci così poi chiaramente c'è un problema più avanti ancora che si chiama ericsson problema è un giocatore che abbiamo visto anche oggi ha grandi colpi palla al piede cioè ha una bella tecnica vede la porta cioè non la porta si la porta vede vede tutto ha una bella visione fa dei bellissimi traversoni palloni perfetti quelle tre occasioni del primo tempo le ha creato tutte e tre lui però fa fatica a trovare spazi sulla tre quarti in serie a non ha il ritmo giusto e non sempre non è neanche in serie a è nell'inter di conte per come giochiamo noi non sempre il tre quartista ha il modo di poter girarsi e vedere cosa fare perché barella è più efficace in un certo senso anche avendo meno qualità di ericsson meno visione di ericsson meno colpi magari perché non sta mai fermo e non dà punti di riferimento lui prende il pallone se non sa già dov'è si muove lo porta a caso e dopo un caso mai lo scarica ma non sta mai fermo non è che lo riceve prova a vedere dov'è e poi fa perché così si è già fregato in serie a così ti portano già via il pallone o ti tamponano ok non nel senso che ti fanno il test di tamponano proprio mentre barella questo lo scansa perché lui prende il pallone se non sa dov'è non è che si gira a vedere prende e lo porta in giro e andando in giro si vede dov'è purtroppo è così in serie a è così soprattutto nell'inter di conte quindi ericsson faccio ancora fatica a capire se può adattarsi a quello che vuole conte perché è un grande giocatore non si può mettere in dubbio ericsson perché lo vedi come tratta il pallone però nell'inter di conte non lo so poi lukaku e anzi partiamo da andiamo un po più indietro perisic perisic oggi ha fatto due tre buoni cross nel primo tempo ha fatto però due tre ottime coperture e diagonali molto importanti nel momento in cui la partita era sicuramente noiosa quindi magari sono state poco belle da vedere ma sono stati molto utili a me interessa vedere se può in qualche modo tatticamente capire sto caspita di ruolo nuovo oppure no e vedendo quelle due tre buone chiusure coperture giuste scalate col tempo giusto sto cercando di provare a a vedere se così se può avere un futuro nelle prossime partite mi sembra che stia leggermente capendo piano piano non è ancora un valore aggiunto non sta ancora facendo differenza o partiti importanti assolutamente no però sta provando a capire il ruolo e questo mi sembra che lo stia riuscendo un po a fare vediamo vediamo è ancora un punto di domanda lautaro e lukaku partitaccia di entrambi lukaku si salva per il gol fatto che sicuramente ha un merito perché ha sbloccato la partita ma hanno fatto una partita pietosa entrambi perdendo l'ira di dio di palloni a metà del primo tempo circa ho tirato un urlo no metà no forse un po di più sul trentesimo così ho tirato un urlaccio contro lukaku perché ha perso un pallone banalissimo banalissimo in fase di transizione quando gli è stato consegnato era la nostra metà campo poteva scaricarlo e far ripartire la squadra no l'ha perso inspiegabilmente non si sa perché se l'ha tenuto tra le gambe li hanno soffiato e ha ripartito il genoa riattaccandoci non può succedere sta roba qua e poi non li hanno mai gestiti bene anche in attacco c'è poca roba davvero però qui o ci può essere la partita un po così ma ci può anche essere il fatto che continuano a giocare hanno bisogno di un attimo di tregua quindi bene l'ingresso di pinamonti lautaro quando è uscito infatti era furioso spaccava tutto quindi probabilmente aveva qualche problema mentale però hanno fatto male entrambi oggi al netto del gol hanno fatto male entrambi detto questo poi ecco quello che ci è mancato è trame di gioco e capitalizzare il possesso perché nel momento in cui per l'appunto ti viene a mancare lukaku che ti fa male le sponde o perde i palloni non è molto in partito è stanco pensa agli affari suoi ecco l'inter ferma non abbiamo possibilità di far robe cioè siamo bloccati possesso tanto possesso ma un po sterile per carità a me piace il possesso palla moltissimo perché è la prima difesa se tu hai il pallone vuol dire che lo neghi agli altri se lo neghi agli altri gli altri non fanno azioni quindi questa è una cosa molto importante avere il possesso palla chiaro che però poi devi trovare anche delle alternative di trame di scalate di movimenti per far sì di superare alcuni problemi quando le altre squadre si difendono indietro tutti quanti lì eccetera eccetera un'altra cosa per chiudere un'altra cosa che vorrei vedere migliorata è la possibilità di arrivare con dei movimenti a muovere gli esterni in modo tale da trovarli liberi perché sono sempre occupati troppo alti magari o marcati e gente come perisic e come akimi diventa veramente forte quando può essere lanciata l'uno contro uno o in campo aperto con la possibilità di andare in fondo buttarle in mezzo eccetera eccetera noi noi li troviamo poco questi due giocatori o comunque gli esterni che abbiamo li troviamo poco troppo poco e quando gli esterni così soprattutto come akimi devi poter fare dei movimenti di squadra che lo liberino e che gli diano la possibilità di di essere una spina nel fianco costante per gli avversari quindi bisogna trovare tatticamente il modo di di fare questa roba qua credo che con un 3 5 2 tornando 3 5 2 vero con brozovic e vidale barella come mezze ali forse lo trovi di più questo sistema perché avresti un sostegno più costante sugli esterni con quelle med con le mezze ali che possono continuamente muoversi e fare questo triangolo no tra meglio quadrato quasi rombo tra mezzala seconda punta esterno e terzo di difesa cosa che adesso ci diventa molto difficile e raramente lo riesce a fare bene con il trequartista che però è seguito da un mediano ragazzi tanto vi saluto ci vediamo domani per le pagelle vi dico già il voto di granocchia perché un like a ranocchia ragazzi tu like qua per il video per ranocchia perché veramente dai se lo merita ha fatto veramente un'ottima partita bravo bravo ranocchia a domani video pagelle forza inter avanti tutta